Cresce la preoccupazione tra le centinaia di dipendenti dell'Abramo Customer Care di Crotone, insieme anche a tanti colleghi sparsi tra Calabria e Sicilia, in vista delle importanti scadenze che potrebbero portare ad un disimpegno totale dell'azienda da due anni commissariata. Una delegazione di lavoratori, guidata da Giuseppe Donnici, che cura le istanze di oltre 400 dipendenti, prova a tenere alta l'attenzione sull'avvertenza che purtroppo nei mesi precedenti ha fatto registrare pochi e insignificanti miglioramenti in favore dei lavoratori. Consideriamo il fatto che dietro queste 400 persone ci sono 400 famiglie, quindi sono molti di più. Purtroppo, come dicevi, l'amministrazione straordinaria è prossima alla chiusura, poiché il 7 agosto, che è una data importante per noi, scade il secondo anno per l'esecuzione del programma previsto dagli amministratori straordinari e avvallato dal Ministero. Quindi a partire dall'8 agosto ci apriranno nuovi scenari che probabilmente potrebbero anche anticipare il loro ingresso, considerato che il 30 giugno scadrà la commessa team in virtù della quale Abramo Customer Care gestisce una serie di servizi per team, quindi è un problema oramai imminente. Giudicheremo l'operato degli amministratori e l'operato di tutti i soggetti coinvolti nel momento in cui finiranno il loro lavoro. Non abbiamo espresso giudizi, anzi pregiudizi nei loro confronti, però io faccio l'avvocato, rappresento tante persone, quindi ho l'onere e l'onore di verificare se tutto quello che è avvenuto è avvenuto secondo quello che stabilisce la legge. Noi siamo forti e determinati a mantenere il posto di lavoro, innanzitutto perché in questa città che è stato segno di storia e di cultura, noi attraverso la cultura cerchiamo la libertà. C'è un'alta quota di donne all'interno dell'azienda e cerchiamo di programmarci verso questa situazione rendendola molto fluibile perché noi siamo persone versatili, professionali e degni di tanta competenza. Stiamo ancora oggi lavorando, facendo il nostro lavoro, mantenendo quello che abbiamo sempre fatto cioè lavorando per team, però lei si può immaginare che non ci sono più le condizioni psicologiche per andare avanti.